Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di Couch, ultimo retro gaming perché oggi sì, oggi finiremo il gioco Allora, è stato attivato? Sì 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 Grazie a tutti. 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 Ok... Perfetto. Grazie a tutti. Grazie. Oh... Grazie a tutti. Manca un cristallo, però... Mmm... Ho guardato gli angoli... Ecco... Ecco... E... Ma... 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 Stan... Su... Ok... Perfetto... Perfetto... Allora... Allora... Ok... 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 Cazzo... No... 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 E... Che cazzo... Fermati... E come lo colpisco da qua io? E' una parola C'è bello che tutto ciò non ha preso quasi niente di danno Altra cosa Se non è normale che non si fa nulla Veramente quasi Ok ora Qualcosa cambia Ok salva Il problema è che Fra poco si scaricherà il joy Dovrò giocare col touch Una parola Ma non che ci sono dei collezionabili qua no E sta zitto a me o meno Fermati Quanto è codardo Mamma mia quanto è codardo Da che sta morendo Eh ma devi fare finire gli anni Oh Ma quando ci scommettete che il job si spegne nel momento che c'è il filmato Che finisce il filmato Sono sicuro Ecco Perfetto Salva Ok Ora sicuramente si spegnerà il joy E va tutto insieme Comunque E allora Va bene Vi ringrazio per aver seguito la serie Ovviamente se il video vi è piaciuto mi lascia mi piace Come diceva Viagro vi ringrazio per aver seguito questa serie La prossima serie che inizierà Già la sapete Sarà il retro game di tutta la serie di nuovo di Crash Bandicoot 3 Dove è l'agenda Crash Bandicoot 3 E Warped esattamente Va bene Vi auguro Vi lascio i titoli di coda E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima